Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video nel canale YouTube Scacchista Matto. Oggi continuiamo a seguire le Olimpiadi di Scacchi e in particolare vediamo la partita tra Lorenzo Lodici e Peter Leco. Infatti l'Italia sta giocando veramente benissimo in queste Olimpiadi e in particolare Lorenzo Lodici, che ha già battuto a Nishigiri e vedremo in questa partita come vince contro Peter Leco. L'Eco è attuale numero 75 al mondo ma ex numero 4 al mondo perché è stato per moltissimi anni over 2700, quindi uno dei più forti grandi maestri. E allora vediamo come è stata questa partita. Innanzitutto se non l'hai già fatto ti chiedo di salire a CineTube cliccando qui sotto e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. E4, gioco a Lorenzo, E5, cavolo F3, cavolo C6, alfile C4, alfile D5, D3. Io la chiamo italiana piana in questa apertura, poi nei commenti ogni volta che lo dico ci sono un po' di critiche. Cavolo F6, alfile G5, con l'idea di inchiodare il cavolo F6, è interessante ovviamente non ai livelli in cui si gioca questa partita, però nel livello più bassi, è interessante l'idea poi di minacciare cavolo C3 e cavolo D5, con l'idea di attaccare il cavolo in F6 e quindi cercare poi di distruggere l'arrocco e esporere il re avversario. Questa è un'idea, segnatevela se giocate questa apertura perché potete vincerci parecchie partite. H6 gioca l'eco, alfile G4, D6 per sviluppare l'alfile campo chiaro, C3, quindi l'Odici non vuole sviluppare il cavolo subito ma vuole cercare di conquistare il centro con la spinta in D4. A5, attenzione, perché oltre D4 giustamente la minaccia era anche B4 con un'espansione nel lato di donna, quindi A5 l'eco previene questa minaccia e evita quindi B4. Cavallo in D2, il cavolo ovviamente non si può più sviluppare in C3, quindi va in D2. Alfile in A7, A5 anche come idea di creare una casa di fuga, questa è pure un'idea molto interessante, può capitare per esempio anche in questa situazione che il cavallo attacca l'alfiere e magari non gli dà a casa di fuga, in questo caso l'alfiere si può rifugiare per esempio in A7. Arroco corto, G5, interessante scelta di Peter Leco che subito vuole attaccare il lato di re espandendosi perché si può giocere questa mossa è anche teorica, perché in effetti il bianco non riesce in maniera rapida ad attaccare il re nero, il centro è abbastanza bloccato tutto grazie al peone N5 e quindi si può anche giocare G5. Alfile G3, arroco corto, può sembrare strano arroccare corto dopo 0 C5 però finché questo peone N5 rimane a controllare tutto il centro è difficile per il bianco creare un attacco nel lato di re. Torre N1, cavallo H7, H3, H5, continua quindi l'espansione del lato di re, D4, giustamente l'olici deve reagire, è un attacco in una delle due ali, corrisponde quasi sempre alla migliore risposta è l'attacco al centro, quindi D4, mossa corretta. Don F6 per portare anche la regina all'attacco, alfiere N2, alfiere N2 forse è una mossa un po' passiva però ci può stare, un'altra idea potrebbe essere alfiere D5, alfiere B5 per lasciare questo alfiere in una posizione attiva, effettivamente comunque la diagonale A2, G8 è una diagonale molto interessante per questo alfiere, però evidentemente l'odice aveva altro in mente, alfiere N2, donna in G7, pedone per, pedone per, cavallo in C4. Liberando la casa C4, sogliendo l'alfiere, il cavallo può saltarci e effettivamente si crea un attacco contro il pedone N5. Cavallo F6, attenzione qui perché l'odice gioca a cavallo FD2, non, quindi dicendo di non catturare il pedone N5. Ovviamente il pedone non è perso del tutto, nel senso che è uno scambio, il nero può catturare il pedone N4, però la posizione che sarebbe saturita in realtà è interessante. Vediamo, può seguire cavallo per C6, qui attenzione perché cavallo per G3 segue cavallo E7 scacco intermedia, notiamo che il cavallo non può essere catturato perché il pedone F2 è inchiodato, e il cavallo è sotto attacco, quindi si può giocare cavallo E7 scacco, e poi per esempio dopo re via cavallo in D4 con l'idea quindi ora di attaccare il cavallo. E questa posizione mi sembra abbastanza vantaggiosa per il bianco. Questo cavallo al centro, il cavallo E7 comunque limita molto i pezzi avversari, può saltare poi in F5, il pedone H5 sotto attacco, quindi qui è complicato per il nero tenere tutto. Se muovi il cavallo cade H5, quindi deve catturare, però dopo donna per G2 nuovamente si minaccia H5. Una bella posizione, quindi questa linea sarebbe stata assolutamente vantaggiosa per il bianco. Qui probabilmente Peter Leco e anche l'analisi di Lodici sicuramente l'aveva analizzata, aveva pensato su a b per c6, e evidentemente non gli piaceva molto questa posizione. Qui il nero minaccia collo per l'alfiere, dove il pionere F2 è sempre inchiodato, quindi probabilmente si è giocato a collo D4. Collo per, pionere per, è una posizione particolare, perché notiamo che entrambi i scheramenti hanno sotto pionali strane, quindi C7, C6 e A5 sono deboli, senza dubbio. G3, G2, H3, però non sono così tanto deboli come pionere del nero. Quindi qui io preferirei il bianco, ma non c'è dubbio che Lodici avrà pensato qualcosa di più profondo. E qui non ha 14 in E5, gioco a collo F di 2. G4, gioco a Peter Leco continuando questo attacco in lato di Re. H4, chiudendo tutto, e mi sembra una scelta abbastanza corretta. Perché? Perché bisogna evitare qui che la colonna G si apra, dato che già vi è la regina pronta ad attaccare. Quindi quando vi attaccano con i pedoni, cercate di chiudere il gioco, quindi evitate che l'attacco porti all'apertura delle linee. Torre in E8, donna in C2, donna in G6, alfiere in D3. Lodici sta spostando la regina in alfiere, quindi cerca in futuro di togliere questo pedone per creare questa batteria. Alfiere in E6, cavallo E3, alfiere per, torre per. L'interessante scelta di Peter Leco che dà la coppia di alfieri per togliere il cavallo che voleva saltare in F5. Infatti notiamo che regina e alfiere controllano benissimo il cavallo F5, quindi l'idea di Lorenzo è a portare anche il cavallo. Fio aperto, reper, cavolo in D7. F3. È vero che apre la colonna G, però probabilmente qui l'Odici ha valutato che il nero non riesce a creare un forte attacco ed effettivamente dopo il pilone aperto, reper, si apre anche la colonna F. Quindi il bianco è pronto a portare anche la torre A in F1 e creare un attacco sulla colonna F. Cavallo F6, cavallo in C4, il cavallo torna nella casa C4, una casa ottima assolutamente. Cavallo in G4, torre in F1. Qui mi piace molto il bianco, quindi mi sembra che i pezzi del bianco siano coordinati meglio rispetto a quelli del nero. Per esempio anche il cavallo in C6, che sembra buono ma in realtà non fa assolutamente nulla, è dominato dal pedone, quindi non fa granché. Torre in D8, donne in E2, donne H6, alfiere in E1, con l'idea probabilmente di riciclare questo alfiere in D2, immagino, o in alcune varianti magari controllare questa casa, immaginiamo se si toglie l'alfiere e il cavallo poi la torre potrebbe andare. Questo non è più per l'alfiere D2. D1, G7, cavalli in E3, cavallo per, donna per. Anche in questo caso, l'eco vuole evitare che il cavallo vada in F5 e quindi si cambiano i cavalli. La posizione qui comincia già a essere vantaggiosa per Lorenzo. Infatti, adesso il re nero è esposto. Mentre prima, l'avanzata dei pedoni, era abbastanza sicura, adesso con le torri sulla colonna F, la regina da torre, quindi si minaccia torre G3, comincia ad esserci interessanti attacchi per il bianco. Torre in D6, torre G3, alfiere G4, l'alfiere quindi deve difendere la regina, ma è inchiodato e quindi viene attaccato dal bianco, alfiere in E2, torre in G6, alfiere per, torre per, torre per, pedone per, perché non donna per, perché su donna per segue torre F3 e qui, nuovamente si minaccia torre G3. L'unica mossa sarebbe togliere la regina, però comunque segue lo scacco e interessanti attacchi da parte del bianco. Quindi pedone per, H5, innanzitutto notiamo che il bianco è riuscito già a creare un pedone passato, quindi già è un piccolo vantaggio che però in finale, e soprattutto a questi livelli, può essere determinante. Torre in E6, alfiere a 4, F6, donna E2, cominciando a creare una certa pressione sul pedone G4, e attenzione che guardate qui l'idea di Lorenzo, ovviamente secondo me è fantastica, che vuole che attuare questo pedone, non potendo portare la torre all'attacco, porta il re. Bellissima idea. Quindi il re H2, idea re G3 e donna per G4. Quindi pensate, soprattutto se siete nelle vicinanze del finale, che anche il re è un pezzo a tutti gli effetti che potete utilizzare. Cavolo in D8, re in G3, cavolo F7, donna per G4. Questo pedone quindi cade, trova l'H6, donna per R per R. E il bianco ha un pedone netto di vantaggio, oltre che passato. Quindi già qui il vantaggio del bianco è palese. Ora bisogna cercare di vincere questa partita, assolutamente non facile contro un 2600. Re in F3, si porta il re verso il centro, A4, torre in F2 per difendere la seconda traversa, C5. Ovviamente non era un problema se il nero avesse giocato torre in D2, quindi controllando la seconda. Ah ok, c'è in realtà anche una combinazione tattica. io pensavo alla semplice torre F2, però in realtà sto vedendo che c'è una combinazione tattica qui. Se vi va mettete pausa il video per trovarla voi stessi, qui il bianco vince praticamente subito. qui si può giocare al fiero F6 scacco, perché sul re per c'è scacco di scoperta con il re. Quindi scacco di re si può dire. Però in realtà, se facciamo qualche mossa prima, donna per per hanno subito fatto torre F3, ok. E allora non ha dato alcuna chance Lorenzo di giocare torre D2, è molto bella questa mossa. Quindi il re F3 in realtà evita completamente torre in D2. A4, torre F2, C5, G4, cavallo F7, C4, cavallo H6. Notiamo una cosa interessante, vi do una pillola sui finali. Lorenzo sta mettendo tutti i pedoni su casa chiara. Non è un caso. Avendo l'alfiere campo scuro, vuole evitare che il suo alfiere venga chiuso dai sui stessi pedoni. Quindi mette preso casa chiara in modo tale che il suo alfiere si può muovere liberamente senza essere intralciato. Quindi questo insegnamento è importante, cercare di mettere i pedoni di colore opposto, quindi in casa di colore opposto, del vostro alfiere. Pedone per, alfiere per, torre scacco, re in E2, torre H3, alfiere F6 scacco, e attenzione qui, perché già vi è un primo match point per l'odici. Qui l'eco giocare H7, grave errore, con poco tempo, vediamo che solo 4 minuti dell'orologio ha giocato subito, e l'odici giustamente cattura subito il PN5, anche qua l'ha giocata praticamente Lampo, è rimasto con 7 minuti, ma in realtà il match point era perché qui c'è Torre G2 che vince subito. Perché? Perché alla prossima segue scacco in G7, questo cavallo è intrappolato, non si può muovere, quindi se il cavallo è in G8, Torre G3 scacco, se Rh6 cade il cavallo, se Rh8, a questo punto vi è uno scacco di scoperta. Torre G3 scacco, e viene catturata la torre. Quindi qui, Lorenzo poteva subito andare in un pezzo, e secondo me l'eco avrebbe praticamente già abbandonato. È uguale con cavallo F7, è uguale anche con qualsiasi altra mossa. Quindi, per esempio, torre per H5, ugualmente scacco, re via, torre G5, e si cattura la torre. Quindi match point perso per Lorenzo, però ovviamente anche con alfiere per G5 la partita continua ad essere assolutamente vantaggiosa. Torre per H5, alfiere in D6, quindi adesso il pedone in più passato è il pedone E, re in G6, torre in F8, cavallo in F7, alfiere in F4, torre R4, re in F3, scacco, re G4, torre in D3, scacco in G8, re F6, torre in E8, torre in D4. Qui una serie di manovre alla fine per spingere il suo primo passato, i primi passati vanno spinti in modo tale che sono sempre più vicini e minacciosi alla promozione. re in G6, torre in E6, scacco, re in G7, re in F5, si avvicina anche il re, a questo punto non è un problema anche se il pedone cade, perché su torre per C4, semplicemente torre E7 e poi segue E6, oppure su re in G8 in modo tale da schiudarsi, si può catturare il primo E7, ma anche E6 vince assolutamente, quindi comunque la partita è vinta. Questo cavallo è dominato dall'alfiere, notiamo che non è un caso il fatto che l'Odici ha piazzato l'alfiere di due case di distanza dal cavallo nella stessa colonna, perché questa è la posizione migliore, infatti l'alfiere in questo modo domina il cavallo, vedete che tutte le case, quasi tutte le case sono controllate, e quindi qui il cavallo non ha case, se vende 8 c'è comunque torre 8, scacco, dovrebbe andare in H8 all'angolo, poi non si muoverebbe più. Quindi torre per non funziona, re in F8, torre F6 inchiudando il cavallo, si minaccia di nuovo E6, ma anche dopo re 8 segue E6, cavolo D6, alfiere per a questo punto. L'Odici vauta correttamente il fatto che si può anche dare l'alfiere, perché il finale è nettamente vinto, il finale di torre, torre per, torre H6, torre in D4, scacco, scacco, B3, per difendere C4, non c'è nessun motivo di rischiare, assolutamente corretta come scelta, A3, torre B7, torre D2, re F6, si minaccia matto, qui c'è minaccia di matto, scacco, re 5, torre per A2, re in D6, di nuovo minaccia matto, ma minaccia anche C5, quindi scacco, re per C5, A2, torre A7, si evita la promozione, e qui, l'Eco abbandona, perché ovviamente tre pedoni sono infermabili, bellissima partita da parte di Lorenzo Lodici, che è veramente ormai fortissimo, batte una leggenda degli scacchi, Peter, l'Eco, dove avrebbe battuto Anish Giri, pazzesco, quindi i miei grandissimi complimenti, e ditemi nei commenti che ne pensate di questa partita, continuate a seguire le Olimpiadi, in particolare a tifare l'Italia. Ci vediamo alla prossima, lasciate un like sul video, e nulla, il credito al came tube, se l'avete già fatto. Ciao!